Gentili colleghe e gentili colleghi, buongiorno. Mi chiamo Eliano Diana e sono un chimico inorganico. Lavoro all'Università di Torino presso il Dipartimento di Chimica. La mia specialità è la sintesi e la caratterizzazione attraverso una tecnica spettroscopica che è la spettroscopia infrarossa e la spettroscopia Raman di composti e sostanze inorganiche. Da circa 15 anni ho aggiunto ai miei interessi, alla mia passione, lo studio dei materiali che costituiscono le opere d'arte. In questa breve lezione avrei il piacere di illustrarvi come la chimica applicata allo studio dei beni culturali possa essere un ottimo esempio per illustrare la chimica in generale e le proprietà delle sostanze, come queste proprietà vengono modificate quando le sostanze sono mescolate e come da miscele di sostanze complesse si possono ottenere informazioni sulle caratteristiche delle composti singoli. La chimica applicata ai beni culturali è una disciplina estremamente importante, soprattutto in un ambito che in particolare per l'Italia è molto sensibile, che è quello che concerne la conservazione del nostro patrimonio. Conservazione che consiste essenzialmente nel porre rimedio all'effetto del tempo o all'effetto di agenti esterni, che possono essere uomini, animali, specie vegetali, che possono avere intaccato le opere d'arte. In questa lezione vorrei esemplificare, visto che la chimica applicata ai beni culturali occupa ambiti estremamente vasti, attraverso degli esempi specifici, in particolare concentrandoci sui materiali pittorici. Vorrei illustrarvi effettivamente come la chimica dia un contributo molto interessante nella caratterizzazione dei materiali pittorici, vedremo come questi vengono impiegati e come vengono studiati. La parte della chimica che si occupa chiaramente dello studio delle sostanze chimiche è la chimica analitica e vedremo quindi che tipologie di indagini possono essere effettuate e attraverso quale approccio, che può essere di tipo non distruttivo oppure attraverso dei microprelievi, e quindi si chiama un'analisi di tipo invasivo. Affronteremo poi un pochino come la chimica possa dare un contributo interessante al restauro. E vorrei esemplificare questo andando ad esaminare due categorie di sostanze, che sono gli adesivi e dei sistemi che si utilizzano per fare delle puliture. Poi vedremo un pochino alcune conclusioni di questo discorso complessivo. Osseriamo questa figura. Questo è un bel dipinto che si trova presso la Pinacoteca di Varallo-Sesia, in particolare si trovava nei depositi. Non è un dipinto esposto, è il motivo forse lo riuscite ad intuire, osservando che è un dipinto estremamente scuro, non molto leggibile. Per quale ragione? È un dipinto che purtroppo, essendo stato conservato in condizioni non ottimali, ha subito un pesante processo di degrado. Un processo di degrado che ne ha alterato la superficie, facendola pesantemente scurire, e lo potete osservare in particolare in tutta questa zona, e in più, se potessimo osservarlo un pochino più da vicino, è purtroppo pesantemente alterato, cioè ha tutta una superficie che è screpolata, e in parte anche, se vi passate il termine, leggermente sfarinata. Quindi un dipinto che è stato oggetto di una tesi, presso il Centro di Conservazione e Restauro dell'Avenaria Reale, che ha cercato in qualche modo di rimediare a tutti i danni che il tempo ha indotto su questa opera d'arte. Quando noi parliamo però di un dipinto, esattamente da un punto di vista dell'aspetto materiale, di che cos'è che stiamo parlando? Allora, un dipinto è un'opera che è realizzata stratificando diverse sostanze. In questa figura ho cercato di illustrarvi quali sono gli strati principali che costituiscono una pittura. E si parte. Innanzitutto quel dipinto che vi ho fatto vedere è un olio su tela. Quindi il substrato su cui il dipinto è stato realizzato è una tela. Tipicamente si utilizzavano tele di lino, di canapa, o fibre anche mescolate qualche volta. Sopra la tela veniva poi depositato uno strato cosiddetto di preparazione che serviva per uniformare tutte le asperità, i fori, le irregolarità che si hanno dall'intreccio della trama con l'ordito del tessuto. E questa preparazione veniva poi perfezionata con un ulteriore strato molto molto più fine, estremamente omogeneo, che si chiama imprimitura, che talvolta veniva anche colorato. Perché? Perché sopra l'imprimitura l'artista andava poi a depositare quello che è lo strato pittorico, cioè una miscela di pigmenti dispersi in un mezzo legante fluido, in questa opera specifica olio. L'opera poi di solito veniva completata, sovrapponendo poi uno strato finale di una sostanza in grado di proteggere il dipinto dagli agenti esterni, la polvere, l'umidità, ma, come vedremo dopo, in particolare la radiazione luminosa. E questo strato viene chiamato vernice. Se entriamo un pochino più nel dettaglio delle sostanze che vengono utilizzate per realizzare tutti questi strati, nella corso della storia della tecnica pittorica si sono utilizzate materie di provenienza sia naturale che artificiale. Diciamo che fino al XIX secolo la preponderanza era per sostanze di origine naturale che potevano essere minerali che venivano finemente macinati e questo per ottenere le sostanze colorate utilizzate nello strato pittorico che vengono chiamati pigmenti. Qua vi faccio due esempi di due pigmenti molto famosi che sono il cinabro, che chimicamente è sul furo di mercurio e dà una sostanza polverosa di un bellissimo colore rosso-vermiglio. Non lasciatevi trarre in inganno dal colore che si osserva quando il minerale è in cristalli grandi. L'effetto cromatico migliore lo si ottiene quando si ha una macinazione molto fine della sostanza. Un altro pigmento naturale molto famoso che dà invece uno dei verdi più brillanti è la malachite che è un carbonato basico di rame. Oltre a sostanze inorganiche vengono ampiamente utilizzate anche sostanze organiche che sono in grado di formare dei coloranti e in particolare i coloranti si utilizzano per esempio per la tintura delle stoffe. È uno dei legni da cui per esempio si ottiene un bellissimo colorante rossa il cosiddetto legno di campeggio di cui qua possiamo vedere una piccola sezione. Sempre nell'ambito delle sostanze organiche naturali ad esempio le vernici un tempo venivano quasi tutte preparate utilizzando delle resine vegetali. Qua ho riportato una delle resine più comune nelle nostre latitudini che è la resina di pino che fornisce come sostanza la colofonia. A partire dal XIX secolo anche prima per limitatamente a poche sostanze venivano anche preparati molti pigmenti sintetici il più celebre uno dei più celebre sicuramente che ad esempio quello che fino a non molto tempo fa veniva ampiamente utilizzato nella preparazione di tutte le vernici gialle è il giallo cromo attualmente un pigmento che si cerca di evitare perché contiene due metalli particolarmente inquinanti quali il piombo e il cromo oppure tutti quanti conosciamo molto molto bene i colori brillantissimi che si possono ottenere dai coloranti all'anilina che sono le sostanze che hanno praticamente dato quasi origine all'industria chimica a grossomodo a partire da metà del XIX secolo sempre nell'ambito delle sostanze artificiali le resine che potevano venire utilizzate per preparare le vernici adesso si possono preparare anche per via sintetica qua vi ho riporto una delle resine più famose che è il cosiddetto Paraloid B72 che è un copolimero formato dal etilmetacrilato e il metilacrilato ecco tutte queste sostanze sono il piccolo insieme di reagenti chimici se vogliamo chiamarli così che l'artista utilizza per realizzare la sua opera se adesso volessimo andare un pochino più nel dettaglio a vedere come il pittore utilizza queste sostanze nel realizzare la stratigrafia che costituisce poi un dipinto possiamo vedere che lo strato di preparazione che viene sopravmesso alla tela effettivamente è formato da gesso mescolato con della colla animale notiamo che sono due sostanze naturali utilizzate già fin dalla più remota antichità il gesso è una sostanza che ha delle ottime proprietà adesive la colla animale è una sostanza che si può ottenere con estrema facilità semplicemente facendo bollire ossa o pelle di animali e facendo poi addensare quella specie di brodo se vogliamo definirlo in questa maniera che si può ottenere sopra lo strato di preparazione invece l'imprimitura che come dicevo prima è uno strato estremamente omogeneo molto fine che deve essere però in grado di aderire all'olio nel quale l'artista disperde i suoi pigmenti quindi va invece realizzato con tipicamente argilla quindi un minerale polverizzato molto fine gesso fine di nuovo del gesso macinato in maniera estremamente fine e a volte si aggiungeva anche un pigmento cioè un composto inorganico insolubile tipicamente nell'acqua che non è altro che un carbonato basico di fiombo l'imprimitura è una parte importantissima nel dipinto perché è la base neutra su cui vengono depositati i colori tenete presente che questa stratigrafia ha uno spessore estremamente sottile stiamo parlando per tutta la stratigrafia di uno spessore che può essere uno o due millimetri pertanto lo strato pittorico ha uno spessore tipicamente di 100 micron l'imprimitura può essere massimo di 200 micron la preparazione arriva all'incirca a 300-400 micron queste sono le dimensioni degli strati quindi quando lo strato pittorico viene messo al di sopra dell'imprimitura abbiamo uno strato talmente sottile che fa trasparire il colore su cui viene depositato per questo il colore dell'imprimitura è così importante a seconda degli effetti che l'artista vuole ottenere poteva lasciare l'imprimitura bianca ed è qui che si utilizza effettivamente il carbonato di piombo mescolato con il gesso e l'argilla oppure in alcuni casi si aggiungevano delle sostanze colorate per rendere ad esempio l'incarnato rosa l'imprimitura veniva colorata di verde in altri casi invece per poter fare risaltare meglio alcuni colori freddi si colorava l'imprimitura di un colore rossiccio o addirittura bruno lo strato pittorico è invece costituito da una dispersione di polveri inorganiche tipicamente i cosiddetti pigmenti fortemente colorati in un mezzo che di solito è un olio essiccativo l'olio essiccativo è un po' diverso ad esempio dall'olio che comunemente viene utilizzato in casa per esempio l'olio d'oliva all'olio di semi perché ha una particolarità quella di poter reagire con l'ossigeno e l'umidità presenti nell'aria e attraverso una reazione lenta è in grado di reticolare e cioè di formare una sostanza estremamente densa ed elastica ed è questo come dire che conferisce a queste sostanze la proprietà di trasformarsi in un film molto compatto con ottime proprietà adesive la tecnica ad olio è infatti una delle grandissime invenzioni nella tradizione artistica occidentale perché ha permesso effettivamente di ottenere delle pitture estremamente stabili da un punto di vista chimico e con una eccezionale resa cromatica è importante ricordare che questa stratigrafia deve poter dare una resa cromatica per effetto della luce la luce che colpisce questi strati deve venire riflessa nella maniera ottimale l'olio effettivamente una volta che è reticolato l'olio essiccattivo una volta che è reticolato permette effettivamente di esaltare al massimo le proprietà cromatiche in una maniera che è diversa per esempio dalla tempera o diversa per esempio da ciò che si può ottenere come resa cromatica con altre tecniche pittoriche quale per esempio la fresco dove non si utilizzano praticamente dei leganti quindi nella tecnica ad affresco per esempio le polveri colorate che sono i pigmenti vengono depositate sullo strato di preparazione utilizzando una soluzione acquosa mescolata con dell'idrossido di calcio che funziona da adesivo per il pigmento sulla superficie ecco se voi pensate la resa cromatica di un affresco è profondamente diversa della resa cromatica della pittura d'olio l'ultimo strato che viene sovrammesso è lo strato di vernice come abbiamo visto prima sono delle sostanze resinose di origine un tempo naturali attualmente nella pittura contemporanea si utilizzano invece le resine sintetiche tipo il paralogio che abbiamo visto prima sono sempre dei polimeri organici in grado di reticolare e di formare un film adesivo estremamente robusto e la cosa più interessante impermeabile all'umidità e all'azione anche dei gas presenti nell'atmosfera se vogliamo riassumere quindi da un punto di vista chimico vediamo come le tecniche pittoriche in effetti sono un eccellente esempio dell'impiego di miscele di sostanze quindi da un punto di vista didattico lo studio della chimica applicata ai beni culturali in effetti è una specie di chimica dei materiali dove abbiamo sempre a che fare con sostanze mescolate in maniera da avere delle interazioni che possano conferire delle ottime proprietà di adesione fra le varie componenti e ottime proprietà di risposta alla radiazione luminosa in modo da avere cioè proprietà ottiche ottimali per permettere la fruizione dell'opera d'arte poi una volta completata quando noi andiamo a studiare queste miscele di sostanze quindi ne utilizziamo tutta una serie di strumenti che sono tipiche proprio della scienza dei materiali come abbiamo anticipato prima se noi vogliamo andare a studiare effettivamente le sostanze utilizzate nella realizzazione di una opera specifica andiamo a utilizzare tutta una serie di tecniche tipicamente strumentali che possono essere effettuate in due modalità o facendo le misure direttamente sull'opera d'arte senza toccare fondamentalmente il dipinto ad esempio se vogliamo considerare come applicazione specifica la pittura d'olio e queste vengono chiamate tutte tecniche non invasive e sono quelle tecniche che in particolare negli ultimi anni hanno preso molto piede anche perché ovviamente permettono una interazione minima con opere d'arte che sovente sono delicatissime faccio soltanto un esempio la gioconda è stata di recente completamente ristudiata dal punto di vista della sua composizione chimica senza dover effettuare nessun prelievo dal quadro considerato anche l'estrema preziosità e l'estrema delicatezza di quel dipinto in alcuni casi invece purtroppo è necessario effettuare dei microprelievi dalla superficie ad esempio di un dipinto queste vengono quando parlo di microprelievi intendo frammenti che il più delle volte si possono osservare o vedere con il microscopio quindi fondamentalmente non si altera la leggibilità dell'opera d'arte oppure si effettuano dei prelievi dove per esempio già c'erano dei piccoli distacchi o delle frammentazioni della superficie pittorica questo tipo di tecniche vengono chiamate analisi invasive andiamo adesso ad osservare quindi che tipo di informazioni si possono ottenere con le tecniche di tipo non invasivo e questo tipo di analisi sono un bellissimo esempio dell'applicazione dell'interazione della radiazione elettromagnetica con la materia questo ambito diciamo della chimica applicata ai beni culturali ci permette effettivamente di anche approfondire il modo in cui la luce è in grado di interagire con le sostanze chimiche e in che modo soprattutto si possa avere una percezione diversa di un oggetto se viene illuminato con radiazioni luminose di lunghezze diverse qua ho riportato di nuovo la stratigrafia di un dipinto che abbiamo visto prima e ho messo in evidenza come radiazioni elettromagnetiche di lunghezza d'onda differente e quindi anche di energia differente hanno una diversa capacità di penetrazione se noi ad esempio irraggiamo la superficie di un dipinto con una radiazione ultravioletta la radiazione ultravioletta di solito viene bloccata dallo strato superficiale di vernice la radiazione ultravioletta una volta che colpisce questo strato superficiale di vernice di solito viene riflessa oppure è in grado di indurre un fenomeno che si chiama fluorescenza si ha cioè una riemissione di radiazione che ci permette effettivamente di determinare la presenza o meno di uno strato di vernice non solo ma vernici di tipo diverso danno una risposta di fluorescenza di tipo differente e quindi attraverso una semplicissima misura e cioè illuminare la superficie del dipinto con radiazione ultravioletta noi siamo già in grado di capire a volte quale tipo di vernice è stato utilizzato ad esempio se una vernice naturale o una vernice sintetica oppure siamo anche in grado di capire se questo strato superficiale di vernice è omogeneo è disomogeneo oppure se per caso è stato rimosso la radiazione infrarossa permette invece di penetrare più profondamente negli strati pittorici e cioè in grado di superare lo strato di vernice e arrivare sia sullo strato pittorico fino all'imprimitura questo perché ha una lunghezza d'onda maggiore se noi illuminiamo una superficie pittorica con una radiazione infrarossa siamo quindi in grado di avere una riflessione della radiazione infrarossa e un'interazione con gli strati un pochino più profondi e quindi siamo in grado di avere delle informazioni relative a questi strati informazioni che sono legate quindi fondamentalmente ai pigmenti presenti nello strato pittorico o informazioni relativi all'imprimitura per esempio se l'artista ha utilizzato del carboncino per fare ad esempio lo schizzo o il disegno preparatorio della sua opera attraverso la radiazione infrarossa spesso noi siamo in grado di vederlo in trasparenza cosa che chiaramente a occhio nudo è impossibile in alcuni casi invece si preferisce fare degli esami più approfonditi utilizzando la radiazione più penetrante che abbiamo a nostra disposizione cioè i raggi X i raggi X sono in grado di arrivare fino alla tela cioè al substrato della nostra opera e quindi sono in grado in particolare di capire se per caso ci sono delle disomogeneità fra i vari strati sovrapposti o qualora nel dipinto siano state utilizzate delle sostanze radioopache ad esempio sostanze contenenti il piombo o il bario l'utilizzo dei raggi X ci permette di determinare la presenza appunto di queste sostanze in questa figura volevo proprio farvi vedere con delle fotografie come effettivamente il dipinto del nostro fauno con lo strumento musicale risponde irraggiandolo con radiazione di lunghezza d'onda differente nella prima figura che abbiamo qua a sinistra vediamo il dipinto fotografato illuminandolo con luce naturale nella seconda figura possiamo osservare invece il risultato di una fotografia effettuata irraggiando il dipinto con radiazione ultravioletta osserviamo che ci sono in effetti si osserva una luminosità diffusa di fluorescenza è una luminosità notate che chiaramente fotografando con una luce ultravioletta perdiamo totalmente la percezione dei singoli colori quello che però noi osserviamo è una radiazione emessa dalla superficie di fluorescenza che ci mostra effettivamente la presenza di una vernice e ci sono anche dei punti ad esempio questi dove si ha una luminosità maggiore sono dei punti dove evidentemente è stata messa una quantità maggiore di vernice e altri punti invece in cui questo strato superficiale protettivo di vernice purtroppo si è perso durante il tempo a destra invece la terza figura ci mostra invece una fotografia effettuata illuminando il dipinto con la radiazione infrarossa qua possiamo osservare come la luminosità delle varie parti del dipinto sia profondamente differente questo perché alcuni pigmenti assorbono maggiormente la radiazione infrarossa e quindi risultano più opachi nella fotografia altri pigmenti invece riflettono maggiormente la radiazione infrarossa quindi attraverso una fotografia con i raggi infrarossi noi siamo in grado in maniera molto semplice a volte di poter discriminare la presenza di pigmenti diversi un'operazione che viene effettuata con la fotografia a raggi infrarossi è una rielaborazione con dei particolari software che ci dà la cosiddetta fotografia a falso colore e cioè un'elaborazione dove noi attribuiamo un colore diverso a seconda della quantità di radiazione infrarossa che viene emessa e questo quindi ci permette effettivamente di poter mappare sulla superficie la presenza di pigmenti di tipo differente sulla destra l'ultima figura la quarta vediamo la quinta vediamo invece la superficie pittorica fotografata attraverso l'utilizzo di radiazione a raggi x qui osserviamo in particolare tutta una serie di dettagli relativi alla cornice e quindi la presenza dei chiodi sono state utilizzate per attaccare la tela alla cornice di legno non solo ma possiamo anche osservare una opacità diffusa presente un po' in tutto il dipinto ma maggiormente concentrata per esempio sul torace del fauno sulle braccia e in questa zona che dove sto puntando con il mouse ecco queste opacità indicano chiaramente la presenza di pigmenti radiopachi tipicamente uno dei pigmenti più famosi è quello che abbiamo citato prima la cosiddetta biacca che è il carbonato basico di piombo ecco osserviamo come semplicemente facendo delle fotografie con radiazioni differenti rispetto alla luce già siamo stati in grado di ottenere tutta una serie di informazioni senza avere dovuto sostanzialmente toccare il dipinto relativamente alla composizione delle miscele di sostanze che sono state utilizzate abbiamo una valutazione puramente qualitativa ma non ancora un grado di conoscenza specifico delle singole sostanze chimiche utilizzate questo tipo di conoscenza lo possiamo invece ottenere utilizzando di nuovo delle tecniche di indagine che fanno che utilizzano una radiazione elettromagnetica che interagisce con la superficie pittorica una tecnica sempre di tipo non invasivo estremamente preziosa impiega di nuovo i raggi X questa volta però utilizzando un particolare effetto provocato quando i raggi X vengono mandati contro delle sostanze chimiche questo fenomeno è sempre un fenomeno di fluorescenza la fluorescenza che cos'è non è altro che è una radiazione che viene emessa della materia che è stata irraggiata con un'onda elettromagnetica solitamente la radiazione emessa per effetto di irraggiamento ha una lunghezza d'onda maggiore e un'energia minore ed è questo che ci permette effettivamente di distinguerla semplicemente dalla radiazione eventualmente riflessa quando noi però mandiamo dei raggi X sulla materia quello che succede è che i raggi X sono in grado di interagire con gli elettroni degli atomi qua abbiamo la classica rappresentazione di un atomo a gusci elettronici i raggi X sono in grado effettivamente di fornire dato che sono radiazioni ad energia molto grande sono in grado di scalzare gli elettroni più interni che si trovano nei gussi più interni degli atomo quando uno di questi elettroni viene scalzato crea praticamente nel gusso interno una buca che viene immediatamente riempita da un elettrone che si trova su un gusso più esterno quando però un elettrone da un gusso più esterno va a finire nel gusso più interno si ha un'emissione di energia perché questo elettrone cambia la sua energia questa emizione è un'energia emessa sotto forma di radiazione elettromagnetica e viene chiamata proprio radiazione x di fuorescenza questo fenomeno fra l'altro è un bellissimo esempio di prova della struttura a gusci elettronici degli atomi quindi questo effettivamente è anche un bel esempio per poter spiegare come effettivamente è vero che gli atomi presentano una struttura elettronica a gusci dato che ciascun atomo ha un'energia ben precisa dei propri gusci elettronici la radiazione di fluorescenza emessa può essere utilizzata come carta di identità di ogni singolo elemento chimico quindi l'analisi di fluorescenza di raggi x ci permette di effettuare l'analisi chimica elementare delle sostanze e ciò che è stato fatto per esempio in questa stampa giapponese le stampe giapponesi sono sostanzialmente delle xilografie che è una tecnica pittorica dove su un foglio di carta vengono stampate con una matrice di legno dei pigmenti che sono stati dispersi in un legante diverso dall'olio che è formato solitamente da delle gomme vegetali cioè una miscela di polisaccaridi dispersa in acqua questa stampa giapponese è stata esaminata attraverso la tecnica di fluorescenza di raggi x la tecnica di fluorescenza di raggi x è una tecnica di tipo puntuale cioè si possono misurare dei singoli punti che hanno un diametro di qualche decina di micron e quindi permette effettivamente di individuare abbastanza bene le singole porzioni di colori presenti sulla superficie dell'opera dipinta se osserviamo questi tre punti esaminati dove c'è il colore rosso è stata rilevata la presenza di mercurio attraverso la conoscenza sia storica che geografica dei materiali utilizzati nelle varie tradizioni pittoriche è spesso possibile soltanto conoscendo il singolo elemento o un elemento caratteristico misurato in un punto colorato poter supporre la presenza di un determinato pigmento tipicamente un colore rosso contenente del mercurio può essere attribuito alla presenza del soffuro di mercurio il cinabor che avevamo già visto prima il punto blu chiedo scusa il punto azzurro misurato qui ha rilevato invece come elementi chimici la presenza di rame piombo e zinco questi tre elementi sono tipicamente presenti in queste tre tipologie di pigmenti la malachite che avevamo già visto prima che è un carbonato basico di rame il piombo tipicamente è associabile in un pigmento così chiaro alla presenza di nuovo della biacca il carbonato basico di piombo mentre il zinco può essere attribuito alla presenza di un bel pigmento bianco che è l'ossido di zinco notiamo tra l'altro che la conoscenza storica dei pigmenti è a volte associabile anche alla datazione dell'opera alcuni pigmenti sono stati impiegati solo a partire per esempio dalla fine del XIX secolo e uno di questi è proprio l'ossido di zinco quindi la presenza di una certa sostanza all'interno di un dipinto ci permette anche di stabilire una data in cui l'opera può essere stata realizzata l'osservazione invece dei motivi decorativi blu scuro hanno rilevato invece la presenza di elementi abbastanza leggeri come l'alluminio il silicio e lo zolfo questi tre elementi sono associabili alla presenza di un pigmento estremamente prezioso che è il blu oltremare naturale che viene anche chiamato lapislazzuli che è una sostanza è un sostanzialmente un silico alluminato di sodio contenente all'interno della struttura cristallina anche dello zolfo un pigmento molto prezioso che di solito riesce veniva utilizzato per realizzare delle stesure di un blu estremamente brillante tuttavia l'analisi di fluorescenza di raggi X permette di ottenere informazioni sulla composizione delle sostanze usate nella realizzazione delle opere d'arte solo in maniera indiretta se uno invece volesse sapere esattamente la composizione dei pigmenti che sono tipicamente dei sali inorganici oppure anche di eventuali molecole organiche utilizzate bisogna utilizzare delle tecniche in grado di fornire informazioni proprio sulle singole molecole o sul singolo composto e per fare questo tipo di indagine la maniera migliore di solito è effettuare dei micro campionamenti che vengono poi esaminati analizzati con tecniche strumentali che utilizzano il microscopio in questa figura vi faccio vedere effettivamente un micro campionamento prelevato dal satiro con lo strumento musicale che abbiamo visto all'inizio le dimensioni di questo campione sono grossomodo 500 micron circa mezzo millimetro e quindi viene studiato ed analizzato al microscopio ecco osservate come effettivamente osservando dal microscopio si può osservare che questo frammento dello strato pittorico è costituito da una miscela di più grani colorati di sostanze differenti osservando sempre sotto il microscopio con la radiazione ultravioletta possiamo anche vedere la fluorescenza differenziata delle varie componenti e in particolare si può osservare su questa parte di questo frammentino la presenza di una sostanza fluorescente probabilmente attribuibile alla presenza di vernice le tecniche che tipicamente vengono utilizzate per caratterizzare la presenza di composti e molecole sono spettroscopie in particolare si utilizzano delle spettroscopie basate sulla vibrazione delle molecole che sono la spettroscopia infrarossa e la spettroscopia Raman quando le molecole vibrano noi riusciamo ad ottenere un'informazione che ci permette di correlare le vibrazioni delle molecole alla struttura e ai singoli legami chimici presenti all'interno del composto quindi la spettroscopia infrarossa e Raman ci forniscono una sorta di carta di identità dei legami chimici presenti all'interno di un composto attraverso poi l'utilizzo di alcuni database dove sono state registrate migliaia e migliaia di sostanze chimiche spesso è possibile registrando uno spettro infrarosso o uno spettro Raman e confrontandolo con gli spettri registrati in un database riuscire a riconoscere la presenza di una sostanza incognita un'altra tecnica sempre effettuata con l'utilizzo di microscopio è la spettroscopia e dispersione di raggi X che è un accessorio attaccato di solito al microscopio elettronico a scansione questa tecnica invece ci permette di ottenere le stesse informazioni di composizione elementare che ci dà la spettroscopia di fluorescenza di raggi X che abbiamo visto precedentemente la microscopia elettronica a scansione associata alla spettroscopia a dispersione di raggi X ci permette però di lavorare su una scala microscopica molto ma molto più piccola e quindi a differenza dell'XRF ci permette anche di isolare particelle di dimensioni infinitamente piccole e non solo ci permette anche di effettuare a volte su questi piccoli frammenti prelevati dalla superficie di un dipinto una mappatura della composizione chimica per alcuni tipi di manufatti invece c'è bisogno di effettuare un'estrazione delle sostanze chimiche finora abbiamo visto delle tecniche dove sostanzialmente noi abbiamo effettuato un'analisi della composizione o agendo direttamente sull'opera d'arte o andando ad analizzare sempre utilizzando un'interazione di una radiazione elettromagnetica con la materia la superficie di un micro frammento prelevato dal dipinto ci sono però delle opere dove la quantità di sostanza chimica presente sulla superficie è veramente esigua questo capita tipicamente per esempio nei tessuti i tessuti colorati sono formati di solito da fibre animali o vegetali che sono state ricoperte con una piccolissima quantità di molecole di sostanze coloranti ecco questa piccola quantità di solito è tale da non permettere di essere rilevata agevolmente con le tecniche spettroscopiche che abbiamo illustrato precedentemente quello che allora di solito si fa che cos'è si prelevano delle microfibre dal tessuto ad esempio è ciò che è stato fatto in questo bellissimo tappeto di periodo coloniale che arriva dal centro America si prelevano quindi anche in questo caso di solito con utilizzo del microscopio una o due microfibre e queste microfibre poi vengono sottoposte a un trattamento chimico quindi di nuovo abbiamo un bel esempio di come di nuovo la chimica applicata ai beni culturali possa illustrarci per esempio l'estrazione e la separazione delle sostanze le fibre colorate di solito contengono miscele di molecole organiche colorate che di solito vengono applicate dissolvendole in un solvente che potrebbe per esempio essere l'acqua dentro il quale vengono poi immersi i tessuti che devono essere colorati un tessuto colorato quindi di solito può contenere più sostanze organiche mescolate per poterle caratterizzare una per una c'è bisogno quindi di effettuare un'estrazione dalla fibra e successivamente un'analisi che prevede una separazione delle varie sostanze chimiche le tecniche separative che tipicamente si usano nella chimica sono le cosiddette tecniche cromatografiche l'estrazione invece che cosa prevede l'utilizzo di solito di alcune reazioni chimiche perché la molecola del colorante che è attaccata alle fibre di solito è legata o direttamente o in alcuni casi è legata attraverso una sostanza che funziona da tramite fra la molecola organica e la fibra tessile queste sostanze vengono chiamate mordenti e il più famoso di questi è l'allume quindi tipicamente per poter studiare per esempio le fibre tessili che cos'è che si fa si prende la fibra tessile si scioglie di solito con un attacco acido che libera le sostanze organiche che vengono poi studiate con delle tecniche cromatografiche e le singole sostanze una volta poi separate vengono caratterizzate nuovamente con le tecniche spettroscopiche analoghe a quelle che abbiamo visto precedentemente vorrei adesso invece una volta come dire visto l'analisi della composizione chimica di un'opera d'arte un altro importante contributo che la chimica può dare ai beni culturali ed è il restauro il restauro è un aspetto fondamentale della conservazione del patrimonio culturale e che compito ha di solito quello di cercare di rallentare il più possibile l'azione che naturalmente il tempo esercita sulla materia tutte le sostanze chimiche sono soggette chi più velocemente chi più lentamente quando sono mescolate fra di foro a delle trasformazioni a delle reazioni noi dobbiamo tenere presente però che le opere d'arte realizzate fino alla fine del XIX secolo erano sempre realizzate con sostanze chimiche estremamente stabile questo è il frutto di migliaia di anni di applicazione ricerca indagine condotta dagli artisti quindi le opere d'arte ripeto fino alla fine del XIX secolo l'arte contemporanea è un po' una storia a sé perché utilizza spesso dei materiali molto ma molto più fragili ma tutte le opere soprattutto i dipinti le statue antichi erano fatti con materiali che erano stati proprio pensati per durare nel tempo durare nel tempo chiaramente ha dei limiti ovviamente su un arco temporale di 50 100 anni era difficile che un dipinto potesse alterarsi tuttavia l'esposizione alla luce a fonti di calore a condizioni di umidità variabili inevitabilmente hanno sempre un effetto sulla miscela di sostanze chimiche che abbiamo visto costituire ad esempio una superficie pittorica quindi l'intervento di restauro di solito ha questo duplice scopo cercare di rallentare l'azione proprio del tempo sulle reazioni chimiche che si possono instaurare in queste miscele di sostanze e qualora l'opera invece abbia subito dei danneggiamenti cercare di porre rimedio in questa figura vi ho riportato una delle opere che ha subito una delle più spettacolari azioni interventi di restauro negli ultimi decenni il cenacolo di Leonardo che è quel particolarissimo capolavoro che Leonardo da Vinci ha dipinto sopra il muro del refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie a Milano con una tecnica pittorica purtroppo estremamente infelice era una tecnica che si era un po' inventato lui utilizzando un'antica tecnica di origine greca che si chiamava Encauto fondamentalmente era una pittura dove come mezzo legante per i pigmenti si utilizzava della cera cosa esattamente abbia fatto Leonardo ancora oggi un pochino argomento di discussione dal punto di vista dell'indagine chimica lui sicuramente ha utilizzato della cera però mescolata anche ad altre sostanze eleganti il risultato è stato purtroppo un dipinto meraviglioso da vedere però estremamente instabile da un punto di vista chimico questo dipinto è arrivato in pessimo stato di conservazione ai nostri giorni già nel passato aveva subito dei pesanti interventi di ridipintura e di restauro quindi diciamo circa 20 anni fa si era deciso allora di sottoporlo ad un intervento di restauro che cercasse in qualche modo di impedire la perdita totale proprio della superficie pittorica è un intervento che avesse permesso anche la rimozione di tutti gli interventi precedenti in queste tre figure potete vedere come si presentava la superficie prima dell'intervento di restauro e come si presenta attualmente dopo l'intervento di restauro ecco potete vedere che c'è proprio una decisa differenza sia della luminosità del dipinto sia dell'aspetto cromatico ma qual è un tipo di danneggiamento che ad esempio subiscono le opere pittoriche sicuramente uno dei più gravi dove la chimica effettivamente può dare un ottimo contributo è la decoesione dello strato pittorico cioè quel sottilissimo strato che contiene i pigmenti uniti eleganti che si distaccano purtroppo dallo strato di preparazione a volte la decoesione consiste semplicemente nel distacco superficiale di alcuni frammenti che però rimangono ancora sulla superficie del dipinto in altri casi invece la decoesione è talmente grave che porta proprio alla perdita del film pittorico tipicamente l'intervento di restauro che viene effettuato allora in che cosa consiste consiste nel tentare di fare riaderire tutti i frammenti distaccati alla superficie pittorica e per effettuare questa operazione c'è quindi bisogno di utilizzare degli adesivi che permettono effettivamente quell'operazione che si chiama proprio il consolidamento dello strato pittorico ora qua si aprono tutta una serie di problematiche perché l'adesivo che uno deve utilizzare per far riaderire le scaglie di film pittorico che si sono distaccate ovviamente deve permettere innanzitutto la riadesione dei frammenti allo strato di preparazione non solo però deve anche evitare di generare degli stress di tipo meccanico perché una volta effettuata l'adesione se si creano degli stress meccanici si corre il rischio di frammentare sia il film pittorico che lo strato di preparazione la prassi di restauro occidentale prevede inoltre che venga rispettato il più possibile l'integrità dell'opera d'arte e cioè non è accettato nessun tipo di intervento che possa alterare pesantemente o significativamente quella che è stata la realizzazione dell'artista pertanto qualunque tipo di intervento su un'opera d'arte deve soddisfare queste quattro caratteristiche deve essere reversibile durabile nel tempo deve essere compatibile con i materiali usati dall'artista nel realizzare la sua opera e deve essere eventualmente ritrattabile quindi potete comprendere come qualunque tipo di sostanza chimica venga utilizzata per un intervento di restauro deve permettere di soddisfare tutte queste richieste di tipo conservativo in particolare è cruciale che possa essere reversibile e cioè in un intervento di restauro eventualmente successivo che possa essere fatto ad esempio fra 10 20 o 30 anni il restauratore deve essere in grado di poter rimuovere le sostanze che abbiamo usato oggi ed è per questo quindi che c'è un enorme contributo che è stato dato proprio allo studio degli adesivi nelle opere d'arte gli adesivi infatti tra l'altro sono un bellissimo esempio di applicazione della chimica dei colloidi che è un particolare stato della materia in particolare delle miscele quindi di nuovo un'applicazione della chimica dei beni culturali nello studio di una disciplina specifica della scienza dei materiali che ha tantissime infinite applicazioni in tanti altri aspetti pratici della chimica gli adesivi come dire appunto sono una bellissima applicazione della chimica dei colloidi e di solito si possono suddividere di nuovo in adesivi naturali alcuni li abbiamo già citati prima per esempio la colle le colle animali che si ottengono facendo bollire le carcasse di pesce di pelle o di ossa ci sono delle colle a base di caesina di nuovo una colla basata su una proteina le colle a base di albumina quelle che si ottengono dalla chiara dell'uovo oppure esistono anche tutta una serie di colle vegetali solubili in acqua ad esempio la colla che comunemente possiamo fare con la farina o delle colle che sono solubili nei solventi quelle che si possono ottenere utilizzando le resine vegetali oppure attualmente e sono quelle principalmente utilizzate nella prassi di restauro perché sono più reversibili degli adesivi naturali ci sono tutta una serie di sistemi polimerici vinilici e acrilici resine possidiche che sono tipo anche quelle che utilizziamo noi le cosiddette adesivi componenti quando vogliamo aggiustare oggetti che si rompono in casa oppure a volte ci sono anche di nuovo delle formulazioni cioè miscele di sostanze ottenute mescolando polimeri di tipo differente un ultimo aspetto che ci tenevo a mettere in evidenza invece quello che riguarda la pulitura oltre al consolidamento una delle azioni importanti che vengono effettuate sulle pitture è proprio la rimozione di quello strato superficiale di sporco che il tempo può avere depositato tipicamente ad esempio i dipinti conservati dentro le chiese hanno un enorme problema di annerimento della superficie provocato dalla furigine delle candele considerate inoltre perché difficilmente i dipinti soprattutto quando sono collocati in posizione molto elevata vengono spolverati quindi quasi tutte le superfici pittoriche nel corso dei decenni si ricoprono spesso di una patina di polvere che viene chiamata particolato spesso unita a sostanze che si possono essere depositate ecco una prima operazione di restauro e a volte anche semplicemente un'operazione cosiddetta di mantenimento delle opere d'arte consiste proprio nella pulitura per pulire una superficie pittorica tipicamente si utilizzano dei solventi dei solventi che però devono essere estremamente rispettosi della delicata stratigrafia che costituiscono una superficie pittorica ora è chiaro che se un restauratore è molto bravo è in grado di applicare un solvente ad esempio in maniera estremamente delicata utilizzando dei tamponi spesso però lo strato superficiale di vernice è talmente delicato che è difficilissimo evitare di rimuoverlo correndo anche il rischio di andare ad agire sulla superficie pittorica e compromettendola ed è per questo che ad esempio di nuovo la chimica negli ultimi 20 anni è riuscita a fornire dei sistemi ideali per effettuare una pulitura con un dosaggio estremamente controllato del solvente che si utilizza per lavare la superficie del dipinto questo sono stati cioè inventati dei sistemi a base di gel che è di nuovo uno stato soffice della materia che sono fondamentalmente delle gelatine che sono in grado di assorbire al proprio interno un solvente ora sono state preparate tutta una serie di gelatine con composizione variabile sono tutte ottenute di nuovo utilizzando delle miscele di polimeri naturali artificiali chiedo scusa e questa che reticolano gonfiandosi si ottengono delle specie di spugne gelatinose che sono in grado di assorbire il solvente utile per pulire una superficie pittorica e che sono in grado di rilasciare però in maniera estremamente controllata a contatto con la superficie soltanto una micro quantità di solvente qua ad esempio viene illustrato in questo provino come l'effetto del solvente messo all'interno della gelatina agisce dopo 20 minuti e dopo 40 minuti vedete si ha in tempi molto rapidi una perfetta pulitura della superficie senza però andare ad alterare la parte proprio che contiene i pigmenti e quindi non si ha un'alterazione della cromaticità del dipinto qua invece potete vedere questo bel dipinto sia a luce naturale che ha falso colore come si presentava prima della pulitura e dopo la pulitura questo colore giallo tra l'altro era dovuto anche all'ingiallimento della vernice superficiale in questo caso è stata utilizzata l'applicazione di gelatine che hanno permesso una rimozione selettiva dello strato superficiale di vernice che è stata poi una volta terminata la pulitura del dipinto e si utilizza l'immagine a falsi colori proprio per verificare di avere rimosso solo lo strato superficiale di vernice ma non lo strato pittorico una volta completata la pittura poi si è riverniciato chiaramente con una vernice sintetica che permette una ottimale protezione allora in conclusione la chimica dei beni culturali effettivamente permette di mettere molto bene in evidenza quale possa essere in un campo importantissimo per la nostra civiltà e la nostra cultura l'importanza della sintesi e dell'analisi delle sostanze analisi delle sostanze perché ci permette di capire la composizione delle opere d'arte sintesi delle sostanze perché ci permette di ottenere dei materiali innovativi utilizzabili per il restauro migliore possibile e quindi anche la conservazione migliore possibile del nostro patrimonio culturale abbiamo visto tra l'altro come la chimica dei beni culturali metta molto bene in evidenza la chimica della miscela di sostanze come le miscele di sostanze sono in grado di interagire e di trasformarsi nel tempo abbiamo poi anche visto come la chimica dei beni culturali è una bellissima applicazione dell'interazione della luce con la materia come l'interazione luce-materia si esplichi sia dal punto di vista semplicemente del fenomeno della visione delle opere e anche come noi utilizziamo l'interazione luce-materia per la caratterizzazione delle sostanze chimiche inoltre e questo è anche uno degli aspetti come dire più belli anche da un punto di vista formativo arricchente perché si occupa di questa disciplina la chimica dei beni culturali mette molto bene in evidenza come dei problemi complessi possono essere risolti con un approccio interdisciplinare chiaramente il chimico che si occupa di beni culturali lavora sempre a stretto contatto con lo storico dell'arte e anche con chi è preposto all'amministrazione e alla conservazione delle opere d'arte che sono i conservatori e le persone che lavorano ad esempio nelle soprintendenze ma in definitiva la chimica applicata ai beni culturali è un bellissimo esempio effettivamente di come si possa illustrare dei studenti in una maniera estremamente piacevole effettivamente tutti i fondamenti della chimica a partire dalla struttura dell'atomo fino alla realizzazione proprio di materiali che possono essere innovativi vi ringrazio moltissimo per l'attenzione e spero di essere stato un pochino aiuti utile grazie buona giornata a tutti grazie